Il derby marsicano se la giudica l'Avezzano, in capo a una condotta di gara più incisiva, che alla fine consente ai Biancoverdi di poter vantare una superiorità territoriale, che sarà anche platonica, ma che sicuramente consentirà alla squadra del presidente Paris di incrementare l'autostima in attesa di tempi migliori. Non è stata una partita da tramandare ai posteri, ma tutto sommato non ci si è annoiati, perché da parte di più di qualcuno dei protagonisti c'erano motivazioni sufficienti per ben figurare. Giordani schiera la migliore formazione al momento possibile, portando con sé in panchina Luca De Meis, Direnzo, Deramo e Panecasio. Torti invece parte con il giovane Pelino, che con naturalezza passa a fare l'esterno di centrocampo, senza accusare nessuna difficoltà, mentre in panchina va Spinola e l'acciaccato Puglielli. Pronti via e al quarto Braghini sfonda sulla sinistra, entra in area e lascia partire un tiro che meriterebbe miglior fortuna, perché è il palo a negare la gioia del gol al fantasista biancoverde. Al nono, Blanco ha un buon pallone dall'interno dell'area, ma calcia da ottima posizione alta sulla trasversale. Diciottesimo, Lombardo prima e De Meis dopo impegnano severamente di Girolamo in un doppio intervento che avrebbe potuto fruttare anche il vantaggio. Vantaggio che invece l'Avezzano trova sei minuti più tardi. L'iniziativa è di Braghini, che apre per Pelino. Sul cross del numero 7, pendenza in area gode di eccessiva libertà e il suo colpo di testa non perduna. Fanti è battuto. Avezzano in vantaggio e Capistrello che rischia la nuova capitolazione un minuto più tardi, quando ancora pendenza ruba palla sul disimpegno Granata e si presenta davanti a Fanti, che è bravissimo a sventare con l'intervento che abbiamo appena visto. Alla mezz'ora, su cross di Lombardo dalla sinistra, Franchi mette alto da buona posizione. Prima della fine del tempo è ancora Lombardo a proporsi sulla sinistra. Sulla sua conclusione la palla buona capita sui piedi di Salvati, che spreca malamente da non più di 5 metri. Nella ripresa il Capistrello accusa maggiormente la fatica e al diciannovesimo Besana vola via alla sua maniera sulla fascia di competenza e va al cross al bacio per pendenza, che da ottima posizione conclude fuori tra la disperazione del suo presidente che assiste dalla tribuna. Ventesimo ancora pendenza dalla distanza, sperando di sorprendere Fanti fuori dai pali, ma Lex recupera in tempo e arriva alla deviazione. Al ventiseesimo l'Avezzano potrebbe chiudere il discorso. Besana salta un avversario e in area termina a terra proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che senza un attimo di esitazione indica deciso il dischetto del rigore. Flebili e poco convinte le proteste dei Granata. Ma dal dischetto Blanco decide per la soluzione di forza, colpendo la traversa con una bomba di inaudita potenza che fa tremare la porta per diversi secondi. Poi inizia il solito waltzer delle sostituzioni e di importante, si fa per dire, c'è da segnalare solo qualche attimo di tensione di troppo nei minuti di recupero. Nervosismo che costa a Fantauzzi il rosso diretto. Dopo partita con il presidente dell'Avezzano Gianni Paris. Allora, tre punti volevate, tre punti sono arrivati, la prestazione ti soddisfa o no? Beh, è stata una partita con finalmente una difesa pulita, il centrocampo che ha mosso le pedine dove doveva e un attacco con Blanco e Pendenza che sono stati incisivi, è mancato poco per il gol dello 0-2, peccato per il rigore sbagliato da Blanco che effettivamente forse se la piazzava sarebbe stato meglio, ma pazienza. Era fondamentale pensare bene anche altri sette giorni, conquistare tre punti. Saliamo in classifica, credo, non so i risultati delle altre, ma comunque resta il fatto che una seconda vittoria consecutiva fa bene e fa sicuramente crescere l'ego. Però c'è il rammarico per quella prima parte di campionato? Eh sì, quei primi due pareggi che speriamo che in questo girone di ritorno che sta per iniziare possano vedere un altro Avezzano, soprattutto un'altra cattiveria negli ultimi metri. diventa necessario anche perché io ho scelto per mia decisione spontanea, senza nessun altro atteggiamento, di non frequentare lo spogliatoio come invece era mio solito, proprio perché questa squadra deve ridare dignità al campionato. Oggi e anche mercoledì a Lanciano ha fatto delle prestazioni maschie concrete e quindi spero che la squadra possa continuare a regalarci punti e soddisfazioni anche contro l'Angolana domenica prossima. Paolo Giordani, una sconfitta che lascia la mare in bocca, deluso? No, deluso no. Abbiamo fatto male rispetto alle altre partite, però nonostante tutto abbiamo creato tanto. Però a calcio è il solito, se non la metti dentro poi è giusto che perdi. Anche loro per carità hanno avuto occasioni per chiuderla da parte del rigore, pure altre occasioni. Però eravamo in partita, soprattutto il primo tempo meritavamo qualcosa in più, però è andata così. Che cosa aveva mancato per agguantare almeno il pareggio? Ma poco brillanti davanti, l'ho detto. Primo tempo se metti 20 palle dentro l'aria e non ne spizzi nemmeno una, vuol dire che c'è qualcosa che non va lì davanti, però è così, ci accontentiamo, sappiamo quali sono i nostri limiti, quindi va bene così. Finale di partita un po' concitato? E vabbè sì, come sempre, ma nulla di eclatante, come sempre, insomma, stando a 10 km, insomma, un derby vero, quindi niente di eclatante.